A Roma non siete intervenuti nelle migliori condizioni, questo intende dire? Sicuramente, se abbiamo avuto dei feriti vuol dire che il governo, lo Stato ha fatto ferire i suoi figli, di conseguenza quando c'è un ferito e c'è uno scontro la sicurezza ha fallito. Noi ultimamente stiamo facendo servizio anche alla TAV, la TAV in questo periodo sulla temperatura non è Milano, ci andiamo sotto, non abbiamo le divise per andare in su, non abbiamo le divise invernali per fare servizio alla TAV. 3 miliardi di euro in 3 anni per noi sono diventati insostenibili, non riusciremo in futuro a garantire il livello di sicurezza minimo. Vi capita di dover mettere mano al portafoglio? Ci capita più di una volta, si parla di repressione, di reati ambientali, il governo spesso si è fatto vanto di combattere le eco-mafie e tutti quei reati ambientali che sono sempre più all'ordine del giorno. Ma come facciamo se in realtà in tutta la provincia di Milano di personale operante e operativo sul territorio del corpo forestale dello Stato ci sono solo 11 unità? Ma come facciamo in tutta la provincia di Milano ad esploitare il nostro servizio se arrivano delle comunicazioni per cui non possiamo più utilizzare buoni benzina perché non ce ne sono più? Dobbiamo utilizzare i mezzi pubblici? I polizioni sono esclusi dalla tutela della maternità e paternità, per il mancato riconoscimento della legge 350 del 2003. Il morale? Il morale è quello che può essere in una condizione di questo tipo, non alle stelle però è del dovere che si fa, si va avanti. Il cambio della vostra donazione che potrà essere effettuato sui conti correnti e sottindicati, intestati al fondo di assistenza dell'interno. Un cittadino diventa azionista un pochettino del lavoro che fa, della sicurezza. Io faccio la volante dal 1996 in un commissariato a Scala Romana in zona periferica a Milano, i tagli sono gli stessi, si parlano da anni e anni, la benzina, ci sono stati momenti in cui sono mancate le autovetture, si aspettava in ufficio ore e ore, aspettava una macchina che non c'era. Io penso che di certi tipi di problemi che ormai si abbia, sono anni che se ne parla ma pensavo che con questo governo, dove deve essere la forza delle forze dell'ordine, c'è totalmente deluso.